Allora, sul tema della riforma costituzionale, guardi, ho già risposto varie volte a questa domanda. Quando io ho presentato la riforma costituzionale e il premierato, la prima cosa che ho detto è che noi avevamo scelto di non toccare i poteri del Presidente della Repubblica e non li tocchiamo. Cioè, noi manteniamo intatto il ruolo del Presidente della Repubblica perché è giusto così, penso io, e perché sappiamo che il Presidente della Repubblica in Italia è sempre stata una figura di assoluta garanzia e c'è a maggior ragione bisogno di quella figura di assoluta garanzia quando domani ci dovesse essere un governo che ha un primo ministro eletto direttamente. Io non vedo in cosa l'elezione diretta del capo del governo significhi togliere potere al capo dello Stato, soprattutto se noi abbiamo scientificamente scelto di non toccare i poteri del capo dello Stato. Si crea secondo me un equilibrio che è assolutamente diciamo che è un buon equilibrio, si rafforza la stabilità dei governi e non vedo anche qui come questo potrebbe ledere le prerogative del capo dello Stato. Perché oggettivamente in Italia abbiamo avuto un problema di stabilità dei governi. Abbiamo anche avuto un problema di governi che non rispondevano a nessuno, cioè che venivano smontati e rimontati all'interno del palazzo senza mai chiedere agli italiani che cosa ne pensassero, che non vuol dire semplicemente la persona e vuol dire il programma. Cioè in tutta la scorsa legislatura sono stati realizzati programmi che non erano stati votati da nessuno.